Una designer e una startup olandesi, Planty, hanno inventato Living Light, una lampada che funziona grazie ad una pianta. È la stessa pianta generale l'energia necessaria per farla funzionare, energia pulita e sostenibile, senza batterie o corrente elettrica. Vediamo come funziona. È stata creata una cella a combustibile microbico-vegetale, cioè un piccolo vano in cui tutti gli elettroni si separano dai protoni e poi scorrono in un filo, trasformandosi in energia. La pianta, inserita in un vaso trasparente con la cella alla base, si illumina quando qualcuno la tocca. Living Light è sorprendente, ma anche semplice perché si basa sulla fotosintesi, il processo chimico con cui le piante producono sostanze organiche e reazioni chimiche, grazie alla luce solare. La natura continua ad agire da sempre come fonte di ispirazione per l'innovazione. La lampada ha due grandi vantaggi. È autosufficiente, ossia non ha bisogno di corrente elettrica o batterie, ed è sostenibile, dato che è naturale al 100%. Essendo off-grid, cioè non collegata la rete elettrica, ha l'enorme potenzialità di poter funzionare in villaggi e paesi senza una rete elettrica. Living Light ha bisogno solo di luce, terreno e acqua.